Siamo sempre al solito punto, insomma questo è un paese libero e indipendente, è una repubblica o è una dependance dello Stato della Chiesa? Noi italiani abbiamo diritto a autolegiferare, soprattutto quando si tratta di leggi come questa, che non sono impositive per il 100% della popolazione. Ma che sono, signora Mussolini, la giuro che me ne vado, ma scusi tanto, ma che diritto ha di interrompermi continuamente? E' pura maleducazione, allora io non sono abituata a stare con i maleducati, mi dà molto fastidio stare con quelli che hanno sempre ragione loro, perché gliel'ha detto il Dio, se a questo poi si aggiungono tutti i maleducati, arrivederci a tutti e grazie. Io non ho detto una parola, ho detto che forse un'altra riforma che andava... Non voleva essere interrotta, è andata così. E va bene, ma qua è un dibattito, non è che si deve fare la campagna elettorale. Allora facciamo così, siccome la professoressa Signorelli... Facciamola rientrare, che peccato, mi piaceva con la rete delle macchinelle, dai, mi dispiace. Anche a me moltissimo, adesso vediamo se riusciamo a farla tornare in studio.